Benvenuti in questo mio nuovo video Oggi stiamo su Fortnite a vedere come si completa una sfida della settimana numero 2 La sfida in questione è visita i punti più a nord, sud, est e ovest dell'isola Iniziamo subito Ti ricordo anche di iscriverti al canale per non perderti nessun'altra notizia di Fortnite Lasciarmi un mi piace per supportarmi, commentare e condividere Primo punto direi di atterrare subito ad approdo Eccolo qua, questo infatti è il punto sud, bisogna atterrare qua circa Bisogna esattamente andare in questa montagna, guardate Se noi andiamo qua in questo punto ci dà la sfida Infatti qui c'è anche il cartello, perfetto, andiamo subito avanti Prossimo punto, andiamo a ovest, si dovrebbe trovare circa qua Eccoci qua, infatti c'è il cartello qua Perfetto Secondo punto, fatto Andiamo a vedere l'altro punto che dovrebbe essere qua Il punto a nord Eccoci qua, questo è il punto a nord Vediamo il punto a est Che dovrebbe essere qua Da queste parti Eccolo qua, il punto a est Perfetto Così abbiamo completato la sfida Perfetto Comunque, spero che il video ti sia piaciuto Se così iscriviti al canale Lascia un bel mi piace Commenta e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzuoli Noi ci vediamo in un'altra